ricomincio da 80 storia di un fantastico viaggio voi vi chiederete ma di che viaggio si tratta quello compiuto dal sottoscritto in compagnia del suo indimenticabile papà papà che decide di lasciare questa dimensione terrena a marzo dell'anno 2021 in seguito ad un brutto male un male incurabile quello per intenderci del secolo scorso nei mesi che però precedono appunto il distacco corporale questa persona appunto il mio papà dice delle frasi strane che mi lasciano un attimo interdetto figlio mio io e te ne abbiamo combinate così tante insieme che potremmo scrivere un libro e la cosa mi lascia alquanto stranito e poi dice un'altra cosetta un po' particolare appunto tu sai che io a luglio di quest'anno dovrei compiere 80 anni mi piacerebbe tantissimo festeggiarli con te con tutte le belle persone che mi hanno accompagnato durante la mia esistenza e non so se ci arrivo se ce la faccio appare evidente la consapevolezza insomma di ciò che stava per avvenire però nel momento in cui ciò non non dovesse accadere appunto problemi non ce ne sono io ricomincio da 80 appare evidente a quel punto la volontà di restare di rimanere immortale attraverso le pagine di un libro un libro appunto che io decido di scrivere e di portare in stampa attraverso la casa editrice joy print ricomincio da 80 storia di un fantastico viaggio non posso che augurare a tutti quanti lettori che vorranno appunto leggerlo una serena piacevole e divertentissima lettura un abbraccio grazie a tutti grazie a tutti